Innanzitutto una è raccolta nel titolo del progetto nel quale si fa esplicitamente riferimento al termine totalitario, totalitarismo. Quindi noi interpreteremo il fascismo come un totalitarismo, quindi superando quella distinzione, discussione che c'è stata nel passato del fascismo come autoritarismo, come regime imperfetto, come totalitarismo irrealizzato, ma invece assumendo un atteggiamento criticamente più maturo che ormai legge le esperienze fasciste dell'Europa in chiave totalitaria. Ovviamente ogni totalitarismo è diverso da un altro, quindi non c'è un modello di totalitarismo, questo è il primo punto. Il secondo punto è quello di mettere fortemente in connessione la nascita del fascismo con la prima guerra mondiale, che è anche questa un'acquisizione storiografica non recentissima, ma ormai diciamo che possiamo considerare assolutamente coerente e accettata, evitando di andare a cercare le origini del fascismo nella storia d'Italia fino dal Medioevo. Quindi il fascismo non è un esito della storia d'Italia, che è implicito nel risorgimento, che è implicito nelle modalità storiche con cui si costruisce lo Stato nazionale, ma è un esito della guerra mondiale in un paese che aveva delle caratteristiche sociali, storico-economiche, culturali che hanno consentito, hanno favorito il fatto che, diciamo così, la guerra diventasse il contesto da cui prende le mosse un esperimento politico, un laboratorio politico assolutamente originale che si chiama fascismo. Terzo punto, che riguarda il percorso analitico della mostra del centro di interpretazione, che è sempre giocato su un doppio binario. Uno, quello che riguarda il contesto internazionale. Il fascismo è un movimento europeo e internazionale, di cui l'Italia è stata in parte laboratorio e in parte luogo dove si è prodotto una particolare tipologia di fascismo, ma anche questa particolare tipologia di fascismo è incomprensibile, è illegibile, se noi non la collochiamo dentro una fase storica che è il periodo tra le due guerre che è caratterizzata da due fenomeni salienti. Uno, che è appunto le modalità con cui la guerra ha impattato nelle società che l'hanno condotta, e dall'altro, e quindi tutto il problema di come si riesce fuori dalla prima guerra mondiale nei paesi europei, dall'altro, la fisionomia del sistema politico dei diversi paesi, e l'Italia ne ha avuta uno particolare, specifico, e terzo, gli anni 30, dove i fascismi sono figli, sono stati poi profondamente modificati dall'impatto della crisi internazionale del 29 che ha prodotto esiti sconvolgenti in Europa. Quindi noi seguiremo questo doppio itinerario internazionale e dall'altro il rapporto tra il fascismo e la società italiana sarà la chiave di lettura con cui noi leggiamo questo fenomeno. Ovviamente non come si potrebbe un po' ingenuamente supporre alla ricerca del buono che ha fatto il fascismo, alla ricerca semplicemente della dimostrazione tautologica che il fascismo sia stato un regime che ha avuto negli anni 30 soprattutto un consenso significativo nell'Italia fra le due guerre, ma soprattutto perché analizzare come la società italiana ha interagito con il regime, quanto di questo regime ha profondamente percorso l'evoluzione della società italiana in un ventennio caratterizzato da dinamiche modernizzatrici particolarmente significative e quanto di questi processi di cambiamento sono rimasti nell'Italia del secondo dopoguerra. La conclusione del percorso ovviamente non può non interrogarci su come cade il fascismo, perché il fascismo cade non alla fine della seconda guerra mondiale come il nazismo, ma cade durante la seconda guerra mondiale e questo comporta una serie di riflessioni sul rapporto tra il fascismo e la società italiana e la guerra che hanno un particolare significato perché poi da questo discendono anche le modalità storiche concrete con cui l'antifascismo ritornerà in auge tra il 43 e il 45, che forme prenderà la resistenza al fascismo e all'occupazione nazista sempre nello stesso bienio e quindi che nesso c'è tra la caduta di questo regime e le modalità con cui si ricostruisce la democrazia in Italia.